Grazie ovviamente ai sindaci perché la Lega è il sindacato del territorio e deve fare questo, cioè rappresentare le istanze del territorio anche e soprattutto nelle aule parlamentari. Penso che siano stati tutti molto esaustivi nell'illustrare la mozione che presenteremo sia al Senato che alla Camera, voglio però ricordare dei numeri. Prima si diceva, e Giacomo giustamente ricordava, non sono persone per la stragrande maggioranza, soltanto il 3%, sono persone che ottengono lo status di rifugiato politico. E questo avviene perché i numeri, dati oggettivi, non il manuale del perfetto leghista, confermano questo. Pensate che gli arrivi via terra nel 2016, questi sono i dati della commissione di inchiesta della Camera, a guida di un presidente del PD, non un leghista, che dicono quelli via terra la prima nazionalità che arriva sono pakistani, secondi afghani, terzo marocchini. Siriani transitati dal confine orientale sono stati la bellezza di un numero astronomico di 7. Questi sono gli ultimi dati ufficiali della commissione di inchiesta. Via mare, la prima nazionalità, sono nigeriani. Nelle prime 10 nazionalità non c'è un siriano che sia uno che arriva via mare. Noi stiamo parlando prettamente e quasi esclusivamente di un'emigrazione di carattere economico e quindi clandestina. Io vengo da una regione del confine che si chiama Friuli-Venezia-Giulia, dove più del 90%, precisamente il 96% delle presenze sono giovani maschi. Ho i miei dubbi che ci siano giovani maschi che abbandonano moglie e figli in mezzo ai bombardamenti e loro decidono belli belli di venire a salvarsi dalla guerra in Europa. È l'ennesima dimostrazione che le nazionalità di cui parlavo prima, il sesso e l'età di cui parlo adesso, stiamo parlando di migranti economici. Ci sono paesi come la Germania, perfino la Germania, la Germania è da un milione di immigrati, che per esempio ha fatto accordi con Kabul perché secondo loro, giustamente, gli afghani non stanno scappando da una guerra e devono tornare nel loro paese di origine. Allo stato attuale non tornano nel loro paese di origine, fanno la tratta Germania-Austria-Italia e arrivano in Friuli-Venezia-Giulia, quindi nel nostro paese. Per parlare di fatti di cronaco, abbiamo il confine del Brennero chiuso dagli austriaci perché arrivano i migrati clandestini verso l'Austria, il confine aperto di Tarvisio, dove il percorso inverso, invece, il nostro governo non pensa minimamente di fermarlo. Minimamente di fermarlo. Noi abbiamo decine, anzi centinaia di migrati clandestini che continuano ad arrivare nel nostro paese. In mezzo a tutto questo quadro, e quello che chiediamo giustamente nella mozione, che chiedono i sindaci, anzi perché ripeto, noi siamo il portavoce dei sindaci, nella mozione dell'ottimizzazione delle risorse, di utilizzare le risorse per i nostri cittadini, ricordo che drammaticamente non esistono soltanto le forze politiche di maggioranza che stanno portando avanti la politica degli sprechi e dei favori. Perché questo buonismo, la mia impressione, è che nasconda dei portafogli belli pieni. Ricordiamo il caso del cara di Mineo, mafia capitale, adesso è il cara di Bari. Quindi mi sa che se fossero solo buonismo rispetterei di più, avrei un'idea diversa, la combatterei. Ma la mia impressione è che invece si nascondono interessi molto forti. Ma dicevo, non ci sono soltanto le forze di maggioranza, ci sono drammaticamente anche delle forze di opposizione che portano avanti questa politica dissennata. A dispetto di quanto dichiarano sui mezzi di informazione. Lo dico perché prima che da politico, da cittadino, sono particolarmente arrabbiato con il Movimento 5 Stelle. È inaccettabile che un movimento che vada su tutti i mezzi di informazione a dire che chi è clandestino deve tornare nel suo paese, che non c'è spazio per chi non rispetta le regole, che loro sono per il rigore, dopo presentino la scorsa settimana degli emendamenti proprio alla relazione della commissione di inchiesta di cui parlavo prima, dove dice che non bisogna toccare il numero di ricorsi che i clandestini possono fare. Quello che diceva Giacomo prima. Seria fino a tre anni. E non solo. E dice che durante tutto questo periodo, quindi non soltanto durante la prima domanda alla commissione territoriale, ma anche dopo tutti i successivi ricorsi per arrivare alla Cassazione, al clandestino deve essere assicurato l'assistenza per quanto riguarda vitto, alloggio, scheda telefonica, tutto quello che riceve da legislazione vigente e da volontà dell'attuale governo. Questo è il Movimento 5 Stelle. E allora noi dobbiamo dire con chiarità ai cittadini, anche visto l'importante tornata elettorale che ci troviamo ad affrontare, che riguarda proprio le amministrazioni, che non hanno un ruolo irrilevante in questa battaglia. Un sindaco che ha coraggio di dire no al prefetto e quindi al governo è un sindaco che mette davanti la propria comunità rispetto al servilismo verso il capo bastone di turno. Abbiamo avuto sindaci di sinistra che pensano di essere servi di Renzi, anche Presidente della Regione, e parlo da cittadino del Frivenenze Giulia come vi ho detto, che pensano di essere servi di Renzi, servire Renzi, invece che rispondere alle esigenze della propria comunità. Allora la battaglia che parte dal basso è la battaglia fondamentale, è la battaglia che può cambiare il Paese. La battaglia che parte dai sindaci è la battaglia che può essere quella battaglia di liberazione verso un governo non eletto, un governo che vuole fare invadere il nostro Paese. Quindi andiamo avanti, penso che il momento finale sarà ad ottobre, dove come ha detto il Presidente del Consiglio Renzi, non noi, se si vota no lui se ne va a casa. Quindi è un voto di no, non soltanto a delle riforme costituzionali vergognose, che vanno contro la democrazia, contro l'interesse del cittadino, ma è un no anche verso le politiche, per esempio, sull'immigrazione che sta portando avanti questo governo. Oggi parte tutto un percorso di liberazione che ci porterà ad ottobre, con la speranza che finalmente i cittadini possano decidere da chi essere governati. Non pretendiamo di vincere a tavolino, che sia chiaro, come Renzi, fare una direzione del PD e decidere chi governa. Noi semplicemente abbiamo l'umiltà di chiedere che questo Paese, i cittadini di questo Paese, possono ancora esprimersi in modo democratico e possano scegliere da chi farsi governare. Grazie.